Ciao amici, da Tonilo Corriere stasera un video educational che non potete fare a meno di condividere. Allora, sapete, con l'avvento della tecnologia NFC, siccome siamo tutti storditi e non ricordiamo mai i pin delle nostre carte, hanno creato le carte con questo simbolo, il simbolo del contactless, cioè basta che tu appoggi la carta di credito al lettore e in automatico, senza possedere il pin, senza ricordartelo, in automatico si procede all'effettuazione dell'operazione se al di sotto dei 25 euro. Ok, cosa succede? Che si sono dotati i malviventi di macchine che leggono questo genere di codice e te lo mettono al portafoglio, magari sei sulla metro, magari sei a una sagra o a un concerto e ti fottono il denaro senza che tu te ne accorga. Quindi cosa devi fare per ovviare questo problema? Devi ordinare da Amazon o da qualsiasi altro marketplace questo genere di protezioni. Sono degli schermi, devono essere ovviamente garantiti Airfield Blocking Sleeve, sono veramente molto sottili, possono contenere fino a due tessere. Come diventeranno? Così, guarda, proveranno a toglierti il denaro ma tu col K, glielo permetterai, ok? Una cosa importantissima e sarò brevissimo, siccome i nostri passaporti contengono il chip sulla base, questo involucro non farà altro che evitare, non si riveli all'interno, eviterà i furti di identità che succedono anche nei passaporti, scusate, nei aeroporti. Quindi con una spesa irrisoria di qualche euro tu puoi evitare problemi di una certa entità sia in Italia che all'estero. Non devi fare altro che condividere questo video per aiutare i tuoi amici a essere attento a queste cose e ti auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo video. Ciao da Antonio Corriere, Bitcoin Superstar.